ciao a tutti oggi siamo a casa piantone qualcuno di voi conosce già questo posto è uno splendido posto vogliamo farglielo vedere fa per 10 intanto mi muovo no è che siamo venuti qui a potare in vigna sono due giorni che tagliamo leghiamo che spettacolo giornata meravigliosa un po freddo freddo un vento pazzesco e allora volevamo un po aggiornarvi su come stanno procedendo i lavori di preparazione per l'avventura intanto la cosa più importante che noi prima di partire mancano solamente 36 giorni dobbiamo finire un sacco di cose per esempio appunto la potatura non so se si vede la vigna la in fondo ecco la dietro sì qualche cosa e dobbiamo finire per esempio qui mettere a posto tutto lasciare in ordine perché poi stiamo via parecchio tempo sono nove mesi ogni tre mesi sapete che però torneremo esatto ma soprattutto abbiamo imbottigliato il vino perché ci è stato richiesto il pubblico anzi gli ascoltatori di radio itineraria ci hanno chiesto ma ne avete ancora le prime 500 bottiglie erano andate via tutte allora ne abbiamo imbottigliato dell'altro ok c'è il furgole è pieno tra poco partiamo per tornare alla base alla base dove continueremo i preparativi per l'euro tour e dunque la cosa più importante questa settimana abbiamo chiuso la predisposizione del famoso studio 3 di cui vi parlava fabrizio si con paolino maino che ha studiato prima tutta l'attrezzatura e chicco mazzucchelli che è il mio maestro non in onda come si dice la messa in funzione ha regolato dovremmo essere pronti adesso aspettiamo che rientri il camper da dove da ghedi vicino a brescia base camper è quasi pronto abbiamo fatto montare i pannelli solari abbiamo fatto montare l'inverter tutto quello che serve per il risparmio energetico soprattutto per essere libera per essere per poter parcheggiare in libera non essere legati ai campeggi o alle piazzole di soli c'è molto counteri con questo cappello si ebbè ma con sto vento e il sole che picchia in testa e poi no cos'è che stavamo dicendo mi hai distratto il navigatore il navigatore della macrom che abbiamo montato che funziona anche quando non arriva internet perché girando l'europa dobbiamo essere sicuri di dove si va e le telecamere per la retromarcia perché 7 metri e mezzo è un casino e poi stiamo definendo le tappe le prime tappe perlomeno le più importanti dove andremo a conoscere incontrare ormai è chiaro quasi le realtà che ci servono ci servono andiamo a intervistare un sacco di gente sì 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 a proposito se avete delle realtà che ritenete insomma valide necessarie da farci conoscere per l'euro tour allora magari segnalatecelo potete farlo sia commentando il video qui sotto che se volete scrivendoci una mail a info chiocciola itineraria.it perché siamo tutte orecchie vogliamo insomma vogliamo integrare ulteriormente gli incontri perché andiamo mica a conoscere le città certo i luoghi sono importanti ma andremo a conoscere le persone e quindi vi ringraziamo in anticipo e contiamo su di voi. Abbiamo già il primo ospite che sarà con noi sul camper da Oporto fino a Santiago ha già comprato il biglietto dell'aereo quindi è con noi Giovannino Verdino sarà con noi. Giovannino. Giovannino. Si chiama Gio. Vabbè Giovannino. E cosa viene a fare? E viene perché facciamo anche il Cammino di Santiago da Oporto a Santiago. È stato l'unico che ha avuto il coraggio di unirsi a noi in questa ammazzata. Subito subito. E beh perché ammazzata il Cammino di Santiago è un bel momento di preparazione al resto del viaggio. Esatto esatto. Va bene adesso basta non aggiungiamo altre cose. Buona domenica e a prestissimo. Ciao a tutti. Ciao.